Sono lacrime che scorrono come un fiume con tutto quello che sta succedendo, ma oggi sono lacrime di gioia. I miei bambini sono al sicuro, che bello che ci siano persone con un cuore così grande. E la signora Elena dall'Ucraina, nonna di Ania, a condividere la sua emozione con tutti noi italiani, dopo aver visto le belle immagini della sua bimba iniziare la scuola in Italia. Ieri mattina la piccola Ania è stata accolta dalla scuola primaria in località Pantano di Valloscalo. Ania, quasi sei anni, 15 giorni fa è arrivata a Velina insieme al fratello di 15 anni, ospiti della famiglia Palo. Grazie di cuore, dice nonna Elena dall'Ucraina, tutti coloro che si sono impegnati nella serenità dei miei figli. 25 giorni di lacrime, dolore e oggi lacrime di gioia. La nostra bambina ha iniziato la scuola. Quanto è stato toccante! Questo è un ricordo che durerà per tutta la vita. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dedicato amore, cura e attenzione alla mia bambina, ma ho paura di dimenticare qualcuno. Nonna Elena ringrazia quindi l'Associazione Uniti per la Vita, che ha consentito ai suoi nipoti di arrivare in Italia. Al sindaco di Castelnuovo, Eros Lamaida, che si è preso il tempo di andare a conclaturarsi con Ania per il suo primo giorno di scuola. La dirigente scolastica, le insegnanti e tutti i bambini della scuola che hanno mostrato affetto e attenzione per Ania. E poi il ringraziamento più grande per la famiglia Palo, con Francesco, Anellina e Benedetta, che hanno accolto i suoi nipoti. Lasciate, conclude nonna Elena, che i bambini di tutto il mondo siano felici e non sappiano mai cos'è la guerra.